Luciano e Carmela sono rispettivamente un giovane uomo e una giovane donna che si stanno per sposare a breve soltanto che Luciano ha l'abitudine di non lavarsi i piedi mentre invece Carmela dimentica spesso di lavarsi i denti quindi insomma lei consultandosi con sua madre la madre gli dice mi raccomando Carmè st'abitudine che hai di non lavarti i denti per matrimonio togliertela insomma perché potrebbe risultare un pochino sgradevole si mamma non ti preoccupa e invece lui si consulta con suo padre il quale gli dice mi raccomando st'abitudine che hai di non lavarti i piedi levatela durante il matrimonio la sera prima di andare a letto un uomo sposato cedeva sempre i piedi puliti si papà non ti preoccupa insomma sti due giovanotti si sposano e la prima notte di nozze la trascorrono insieme si svegliano al mattino e lui dice a lei senti scusa Carmela ma che hai visto i calzini miei? e lei no caro e lui ma che ti sei maniati?